Sport e solidarietà nel fine settimana al 18 buche di Miglianico per l'AXA Golf Cup 2012 e l'Amico Day. Grazie all'impegno di Mario Dragonetti, responsabile dell'AXA Assicurazione di Pescara, diversi sponsor privati hanno raccolto 10.000 euro devoluti alla Onlus Amico che si occupa di malformazioni infantili. Così verranno acquistate attrezzature per la chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara. In serata il conferimento di Targhi Ricordo al primario per Luigi Lelli Chiesa, alla giornalista Rai Maria Rosaria Lamorgia e a Mario Dragonetti per il lavoro svolto. Subito dopo il Golf Club di Miglianico ha ospitato il concerto del chirurgo musicista Antonello Persico con il suo repertorio di Fabrizio De Andrè. E oggi è un'ennesima prova che le persone sono molto sensibili a questo tipo di manifestazione, al di là poi della raccolta fondi, che però non guasta perché noi dobbiamo risolvere vari problemi all'interno del reparto e quindi ben vengono questi tipi di feste. L'associazione Amico, la cui sigla appunto significa Associazione Malformazioni Infantili Chirurgiche Onlus, è un'associazione che nasce circa dieci anni fa ed è stata costituita da genitori e medici del reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara, presieduto dal diretto dal professor Pierluigi Lelli Chiesa. È stata anche organizzata una mini olimpiade di varie discipline, con i giovanissimi atleti provenienti da Pescara Calcio, Amatori Basket e Miglianico Golf, che hanno sfidato un accenno di pioggia. Per loro l'AXA Cuori Nazione ha presentato il laboratorio di educazione stradale Via Libera a cura dei volontari dell'associazione Clown Doc, impegnata ad alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti. C'è la Federazione Nazionale Clown Dottori che ci dà dei riferimenti, quindi ci sono per esempio dei corsi di formazione, anche noi li facciamo, che devono avere almeno un minimo di 200 ore di preparazione sia artistica che base psicosocio-sanitaria. Tutto nasce sicuramente da questo circuito nazionale dell'AXA Golf Cup, che AXA organizza quindi a livello nazionale. Io a livello locale ho voluto in certo quel senso ricollegare qualcosa al discorso della solidarietà. Sicuramente la gara è più importante del calendario di quest'anno, infatti è una gara di circuito con finale nazionale e abbiamo 140 iscritti e ci sono anche dei giocatori in lista d'attesa. Di questi 140 quasi la metà vengono dalle altre regioni d'Italia, quindi è una gara molto importante. I cinque vincitori dell'AXA Golf Cup andranno in ottobre alla finale nazionale di Punta Ala in Toscana, con l'orgoglio di aver legato il loro nome ad una iniziativa sociale per l'infanzia. In molte donne avete dimostrato anche una grande grinta sul campo. Dobbiamo averla, soprattutto la concentrazione, non ci possiamo rilassare un attimo perché ogni buca è a sé istante. Mantenere la concentrazione per cinque ore consecutive vi posso assicurare che non è un scherzo.